Benvenuti ragazzi nel mio nuovo video, oggi vi imporcherò con me a fare una biciclettata la sindaca dei Bobby Bike ci saremo tipo tantissimi e vi lascio a qualche video Sì 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 Bobby Bike Sì 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 Continuano ad arrivare E rincornava un ciclo solo Si tratta di un giro in bici di 20 km, si parte da Selvaciano dentro all'impianto sportivo Antonio Ceron e si crea un apparecchio 100 metri Quanto riguarda l'acquisto dei costume di Babbo Natale, costa 10 euro ed è appunto per le onlus le associazioni, per aiutare le associazioni e adesso le associazioni che collaborano con questo evento grande Grazie a tutti! 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 Se qualcuno teme di poter andare molto veloce, prenda pure me come esempio. Bravi, bravi, venite avanti, guardate quanti babbi stanno arrivando da lì, quindi grazie. A brevissimo partiremo, ci saranno dei brevi saluti iniziali e poi il countdown che vi permetterà. Raccolte in questi dieci anni, in undici edizioni, 143.335 euro. Fatemi sentire un applauso per questa cifra. Grazie, vi passo e dico bene con Matteo, organizzatore di questa fantastica edizione. A lui la parola. Il servizio pratica, che poi ricorderemo con Wendy, mi raccomando, la strada è chiusa, però prestiamo sempre attenzione, in particolar modo ai bambini. Mi raccomando, siamo tutti quanti dietro la bicicletta principale, come ogni anno. La manifestazione è fatta per divertirci, per fare gli auguri a tutti quanti. E quindi divertitevi, fate gli auguri di Buon Natale a tutte le persone che vedrete lungo la strada. Perfetto, sorridiamo perché il sorriso è la cosa più contagiosa che c'è. Buona grande! È una grande vittoria quest'anno, dopo tutto il grande periodo che non ci ha permesso di fare i bodybike. Quindi oggi consagravo questa giornata e divertiamoci qui in fondo e buone feste a tutti! E allora iniziamo con le... Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... E via! La decima edizione della Babybike! Pronti, pronti? Dai che ce la facciamo! Ci abbiamo messo due anni e ora siamo pronti a ripartire! Ragazzi, un grazie particolare anche a Wendy che ci ha aiutato a mettere un po' in fila tutte le cose. Ringraziatemi adesso perché sono viva! Bravissimi! Ci vediamo all'arrivo! Ringraziatemi! 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 Oh, sono già fermi Come vedete è una cosa in sicurezza, quindi se il prossimo anno vorrete partecipare Si può partecipare con qualsiasi bici, gravel, mountain bike, city bike Come vedete, come vedete, come vedete Come vedete, come vedete Come vedete Si va al passo che si vuole, uno si deve adattare Per me questo è tanto lento Prova Per me, come vedete, come vedete Come vedete, come vedete, come vedete Come vedete Come vedete Come vedete Come vedete